Ciao sono Fortunato, ci troviamo qui a Istanbul, io con mia moglie Iris e due giorni fa ho fatto questo trapianto di capelli come potete vedere presso l'International Plus, ci siamo trovati molto bene, consiglio a tutti questa struttura, molto professionali, sia il traduttore UGUR, tutti i medici, molto gentili anche le infermiere, l'assistente, pure c'è stato sempre vicino con Whatsapp e vogliamo ringraziare tutti e posso raccomandare tutti questa struttura, sono veramente brave, grazie, grazie mille International Plus, ciao! Ciao!